Esiste un segreto infallibile per non avere muffa? Te lo svelo in questo video. Milano, ore 6.55, una chiappa muffa si sveglia e sa che dovrà inseguire una spora di muffa. Avete letto qualche commento sotto i miei video quando vi mostro i miei casi di muffe da incubo? C'è una frangia di estremisti che sotto i miei video commenta sempre con la solita frase Basta rieggiare, vergogna, aprite le finestre e la muffa non ci sarà mai. Tranquilli, per questa volta non parlerò male di quelli che inneggiano la candeggina. Visto che questo è un argomento scottante, sotto i miei video cerco di darvi una risposta e cerco di proteggere la dignità di migliaia di famiglie che tutti i giorni combattono con la muffa e nonostante aprano le finestre il problema non sia ancora risolto. Caro user, se il problema fosse così semplice da risolvere, uno, io non farei questo lavoro, anzi sarei senza lavoro, e due, sarebbe un mondo migliore perché per una volta con un rimedio totalmente gratuito e proveniente dalla natura avremmo risolto un problema, ma purtroppo non è così. Aprire le finestre è il prerequisito per vivere in una casa con aria sana, dove non si formi muffa ma soprattutto dove si respiri aria pulita. Se non apriamo le finestre abbiamo sempre quest'aria viziata che può anche portarci malattie e fastidi respiratori, ma questo lo sapete già. La muffa purtroppo si può formare anche se apriamo le finestre o soprattutto proprio perché apriamo magari troppo le finestre. Io ringrazio il nostro utente per il consiglio che ovviamente dobbiamo prendere e applicare, però purtroppo quando abbiamo già le prime formazioni di muffa in casa non basterà arieggiare per farle uscire di casa. Vi ricordo come sempre il motivo per cui si forma muffa in alcune case piuttosto che in altre, ovvero la condensa, cioè quel fenomeno fisico che porta a bagnare tra virgolette le nostre pareti nei punti più freddi, quando una corrente calda, cioè i nostri vapori, il ferro d'aspiro, i vapori della cucina o delle docce vanno ad incontrare una parete fredda. E a quel punto non vi basterà arieggiare perché ormai la muffa è entrata in casa vostra. Arieggiate gente, arieggiate! Se non avete muffa questo è una cosa da fare assolutamente tutti i giorni nella vita come ci ha insegnato la nonna. Se la muffa è già entrata in casa e volete farla uscire dalla finestra dovrete accompagnarla gentilmente con degli antimuffa appositi e poi risolvere alla radice la causa del problema. Nel nostro caso la condensa sui muri più freddi. E da Piazza Duomo ore 7.05 del mattino è tutto. Ciao da Giuseppe e basta muffa. E PS se hai bisogno di aiuto e la muffa è ancora in casa tua nonostante arieggi sempre scrivimi nei commenti e ti aiuterò.